Buongiorno a tutti da Schiffer Adams. Ci troviamo di fronte a un sito poco conosciuto, la tomba dei giganti di Domu Baccheri, una delle tante tombe dei giganti che sono presenti in Sarvegna. Questa è poco conosciuta, addirittura non è segnalata su Google Maps, ma è individuata in qualche altro sito, nel sito del comune di Vallermosa e nel sito Nuglet, Lander e Terrenuraghi. Non è di facile individuazione perché si tratta di una strada interna di campagna, il sito è a circa 3 km da Vallermosa, che è un piccolo comune che sta fra Villa Cidro e Domusnovas nel Medio Campidano, provincia sud Sardegna. Io adesso mi avviero all'esplorazione di questo sito. Oggi purtroppo il tempo ha compromesso il mio programma. Avevo in mente di visitare diversi siti, ma purtroppo sta piovendo, adesso ne deve approfittare perché ha smesso e quindi ho paura che per oggi dovrò accontentarmi solo di questo sito e tornerò poi a casa perché è molto scomodo visitare quando piove, non si possono fare le riprese, o meglio si possono fare ma si rischia di bagnare le apparecchiature. E niente, allora ci vediamo fra poco per la descrizione del sito. e ora vi eh si è questo, guardate che cosa si è ridotto questa tomba dei giganti potete notare qua che la parte frontale è crollata sicuramente c'è una parte frontale di solito le tombe dei nuraghi sono absidate o hanno comunque uno sviluppo allargato davanti ce ne sono di vari tipi, di solito hanno sempre una parte frontale con un ingresso alla tomba funeraria alla camera funeraria, questo era l'ingresso, piuttosto stretto, di solito hanno ingressi più larghi e ci hanno un fronte, un fronte della tomba funebre, spesso alcune sono a corna di toro diciamo o a forma di nave capovolta, ce ne sono di vario tipo, qua comunque abbiamo visto che l'ingresso della camera funeraria è crollato, sicuramente qua c'era un'apertura, sicuramente, non tutti avevano un'apertura, alcune non ce l'avevano, alcune erano semplici tumuli ma avevano comunque un decoro un'entrata che simboleggiava, rappresentava la struttura sacra, a volte potevano essere anche il preludio di pozzi sacri all'interno di questa camera funeraria, ce ne sono alcune che magari presentavano dei corridoi, tipo muraghe proprio, dei piccoli corridoi con una specie di passaggio ad arco e si scendeva sotto, si scendeva sotto nella camera funeraria, ce ne sono di diverse tipologie e di diverse datazioni, io non conosco la datazione di questa tombale gigante che purtroppo abbiamo visto che è in condizioni praticamente completamente o quasi distrutta, è rimasto un tumulo, una collinetta e quindi si è persa praticamente la forma originaria, è rimasto qualcosa per quanto riguarda l'ingresso principale, queste sono pietre molto molto antiche, pietre molto antiche, ormai coperte dalla vegetazione anche dietro lo sviluppo è uno sviluppo diciamo tipo abside, ma bisogna capire poi com'era la forma originaria perché chiaramente in alcune parti è crollata, vedete qui sicuramente c'era qualche altra struttura perché ci sono delle pietre che sono disposte in una certa maniera e non credo siano disposte a caso, da come sono disposte si presume che c'era o un prolungamento della struttura o qualcosa comunque collegata a questa tomba dei giganti. Di solito le tombe dei giganti sono collocate cronologicamente nel periodo dei nuraghi che va dal 1850 a.C. fino al 1100 a.C. ma anche date più vicine, più recenti. In realtà io penso che alcuni nuraghi o proto nuraghi siano addirittura antecedenti al 2000 a.C. chiaramente non abbiamo una certezza scientifica quindi bisogna prendere con le molle quello che io dico quindi niente è tutto qui il sito. Qua c'è una rete ma non c'è bisogno di scavalcarla si vede anche da qui c'è un muretto questa era l'entrata probabilmente. un sito molto piccolo dimenticato il sito dimenticato ovviamente Sardegna dimenticata non poteva far altro che riportarlo alla luce perché il compito di questo canale soprattutto recuperare il valore storico archeologico di certe strutture dimenticate sia a livello turistico ma anche a livello archeologico chiaramente adesso è diventato un cumulo di pietre è una specie di collinetta però questa signori era una tomba una tomba dei giganti poi vi farò alcuni video o anche solo un video dove vi parlerò di questa tomba dei giganti è un argomento molto molto lungo molto affascinante e misterioso richiede un certo un certo periodo di tempo per essere esplicato nella maniera più idonea possibile con delle informazioni precise perché anche se sono ancora in fase sono in fase di studio quindi molte formazioni ancora non sono state certificate focalizzate dalla storia archeologica sarda quindi vi do appuntamento alle prossime escursioni questo è il sito di della tomba dei giganti di domo baccheri vallermosa un caro saluto da schifera adams e alle prossime escursioni